Letture di sabato 25 marzo Annunciazione del Signore Dal libro del profeta Isaia In quei giorni il Signore parlò ad Akaz Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio Dal profondo degli inferi oppure dall'alto Ma Akaz rispose Non lo chiederò Non voglio tentare il Signore Allora Isaia disse Ascoltate, casa di Davide Non vi basta stancare gli uomini Perché ora vogliate stancare anche il mio Dio Pertanto il Signore stesso vi darà un segno Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio Che chiamerà Emanuele Perché Dio è con noi Salmo Ecco Signore, io vengo per fare la Tua volontà Sacrificio e offerta non gradisci Gli orecchi mi hai aperto Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato Allora ho detto Ecco, io vengo Ecco Signore, io vengo per fare la Tua volontà Nel rotolo del libro Su di me è scritto Di fare la Tua volontà Mio Dio, questo io desidero La Tua legge è nel mio intimo Ecco Signore, io vengo per fare la Tua volontà Ho annunciato la Tua giustizia nella grande assemblea Vedi, non tengo chiuse le labbra Signore, Tu lo sai Ecco Signore, io vengo per fare la Tua volontà Non ho nascosto la Tua giustizia dentro il mio cuore La Tua verità e la Tua salvezza Ho proclamato Ecco Signore, io vengo per fare la Tua volontà Dalla lettera agli ebrei Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice Tu non hai voluto né sacrificio né offerta Un corpo invece mi hai preparato Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato Allora ho detto Ecco, io vengo Poiché di me sta scritto nel rotolo del libro Per fare o Dio la Tua volontà Dopo aver detto Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte Né olocausti né sacrifici per il peccato Cose che vengono offerte secondo la legge Soggiunge Ecco, io vengo a fare la Tua volontà Così, egli abolisce il primo sacrificio Per costituire quello nuovo Mediante quella volontà Siamo stati santificati Per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo Una volta per sempre Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo L'angelo Gabriele fu mandato da Dio In una città della Galilea chiamata Nazareth A una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide Di nome Giuseppe La vergine si chiamava Maria Entrando da lei disse Rallegati piena di grazia Il Signore è con te A queste parole Ella fu molto turbata E si domandava che senso avesse un saluto come questo L'angelo le disse Non temere Maria Perché hai trovato grazia presso Dio Ed ecco Concepirai un figlio Lo darai alla luce E lo chiamerai Gesù Sarai grande E verrà chiamato figlio dell'Altissimo Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre E regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe E il suo regno non avrà fine Allora Maria disse all'angelo Come avverrà questo? Poiché non conosco uomo Le rispose l'angelo Lo Spirito Santo scenderà su di te E la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra Perciò colui che nascerà sarà santo E sarà chiamato figlio di Dio Ed ecco Elisabetta tua parente Nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio E questo è il sesto mese per lei Che era detta sterile Nulla è impossibile a Dio Allora Maria disse Ecco la serva del Signore Avvenga per me secondo la tua parola E l'angelo si allontanò da lei 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 E l'angelo si allontanò da lei